Ciao ragazzi, sono Lion DJ, qua c'è il mio amico Alex Cardo, e c'è anche la mosca che ci sta importunando da prima, che stavamo giocando a Bristola. Mosca di mercoledì. Oggi c'è molto caos, vero? Molto, molto. Avete già intuito un po' dove siamo? No? Ok, bene, allora vi faccio vedere. E' tra bristola, vabbè. Adesso la gente se la faccia a me, mi è come lo faccia a me, mi è che sarà a me. Sì, sono in mezzo ai venti. Aspettando la nostra vita. La nostra vita. Molto cara, poi. Sì, che fischia, ragazzi. Alex, ci facciamo l'alternamente? No, anche per me. Facciamo la sauna? Sì, la stiamo facendo. Forse se andiamo fuori, cosa è meglio? No, sta meglio dentro. L'Ighi? Sì. Ce l'ha ricondizionata? Io sono Marika, mi presento. Lui è Alexia. Ciao. Eh, ciao. Nuova vita. È nuova... È vittodini. Ma che bello. Ma... Ma... Alex, quante volte l'hai già fatta? Una volta. Ma quante volte l'hai già fatta? Una volta. Ci siamo sverginati in tra. E poi è andata a fattura. Eh, anche... Anche quando è andata a fattura. Ma vabbè, ma chi se ne frega, basta. Ci siamo sverginati. C'è una barista che ho gradato un po' manuccio. Parte il re basso, momenti. Io l'ho piantato prima. Ma... Svegliate. Vieni, stupendo. Vieni, stupendo. Vieni. Hai stupendo. Stupendo. Hacchite. Stupendo. Stupendo. E' lì. sono usciti i cosini dalla staglia ma anzi dalla stabliera ma che giornate epiche adesso arriva la nostra cara amica e andiamo a fare un giro non si sa dove perché c'è troppo caldo e le menti sono fuse adesso è andata a puttana oggi adesso è andata a puttana questo suono è il lavoro di stamattina dalle nove fino a mezzogiorno ah io avevo capito te sei andata a puttana non c'ho i soldi è che c'erano i soldi poi non c'entrai lo stesso ma nanch'io proprio non riesco a starmene con una squinzia anziché andare a suonare le mie i ganna buona sport e basta noi siamo i deficienti della caianese no non hai capito però me la dico io poi la dici tu noi siamo i deficienti della caianese noi siamo i deficienti della caianese anche a chi ci tocca che finisce male anche a chi ci tocca che finisce male i gaianesi sono non la so più me anch'io questa qua l'avevamo cantata quando siamo venuti dicendo un monte di gaiano a piedi scatti c'è da rifare da rifare perché è stato veramente e questo è anche il cimitero va bene va bene figlia che giornata è con il mio caro amico il mio caro così è un amico adesso andiamo dove? a fare un culo? a marci una bella sigaretta ancora e poi aspettiamo questa ciao a tutti buona giornata a tutti ciao a tutti buone giornate epiche